La decisione definitiva nei suoi confronti fu pronunciata dai giudici della Corte d'Assise d'Appello di Catania nel 2014. Ad Emanuele Curva venne imposta la condanna a 15 anni e 4 mesi di reclusione per l'omicidio dell'esercente Luciano Bellomo, freddato in Viale Mattei a Macchitella nel settembre del 2007. I magistrati del Tribunale di Sorveglianza di Palermo gli hanno concesso i domiciliari. E' stata accolta la richiesta formalizzata dal difensore di Curva, l'avvocato Rosario Prudenti. Alla quarantenne mancano circa 10 mesi per espiare l'intera pena impostagli per l'omicidio. Continuerà a farlo ai domiciliari in città. In base a quello che emerse dalle indagini e dai lunghi e complessi procedimenti giudiziari, fu proprio Curva ad accompagnare in Aviale Mattei Giuseppe Domenico Caffà, condannato come esecutore materiale dell'omicidio a 26 anni di detenzione. Il legale di Curva ha presentato una serie di elementi per sostenere la richiesta di concessione di una misura alternativa alla detenzione in carcere. Tutte le relazioni redatte dagli esperti che hanno seguito il suo percorso carcerario hanno dato esito favorevole. Curva ha avviato un percorso di recupero e reinserimento, impegnandosi nelle attività in carcere, secondo gli esperti, arrivando ad una piena ammissione delle proprie responsabilità. Ragioni che hanno convinto i giudici della sorveglianza di Palermo a concedergli i domiciliari, dato che ha già scontato gran parte dell'intera condanna. Per gli ultimi dieci mesi continuerà a scontare la pena ai domiciliari, lasciando il carcere del Lucciardone, dove è stato detenuto.